A Teramo sono finalmente ripresi a pieno regime i lavori di riqualificazione di Piazza Garibaldi e della sottostante Sala dell'Ipogeo, importante opera finanziata dal PNRR Sisma, un intervento molto atteso in città che permetterà di ristrutturare un importante sito molto utilizzato per appuntamenti culturali divulgativi. I problemi sono stati risolti con l'aumento dei costi che ora sono lievitati, per questo è stato necessario attivare un'integrazione del finanziamento per il completamento di tutti i lotti, chiedendo alla struttura commissariale un nuovo stanziamento. Piena totale comprensione per il disagio che ovviamente il cantiere ha determinato in una zona nevralgica della città e soprattutto il suo prolungamento, il prolungamento del cantiere, e quindi con le scuse ai nostri cittadini doverose, scuse a cui fanno seguito però i chiarimenti per quello che è successo e per quella che è la necessità di questo intervento. Anche con questa perizia di variante siamo riusciti a definire e risolvere problemi che si stavano trascinando da troppo tempo e che si sarebbero trascinati nel tempo, risolvendo questioni relative alle condutture, per cui ringrazio anche la Ruzzoreti che ha collaborato da subito per sistemare quanto di competenza, il Comune ha fatto il proprio e continuerà a fare il proprio, e poi il problema degli impianti nel corso del cantiere ed è stato un altro dei motivi per cui abbiamo dovuto procedere all'aprizia di variante e quindi con lo stallo dell'opera è stato il fatto che gli impianti sono risultati ammalorati, fortemente ammalorati e quindi non era più sufficiente una sistemazione e manutenzione ma una vera e propria sostituzione. Ma per quanto riguardano le tempistiche, il sindaco Gian Guido D'Alberto non si è voluto sbilanciare. L'obiettivo è intanto di liberare prima possibile la piazza dalle strutture che oggi insistono e che riducono la viabilità e quindi andiamo per step, il primo blocco di intervento deve essere finalizzato a questo e poi i lavori saranno completati secondo i termini previsti da contratto con un'indicazione molto chiara alla ditta che devo ringraziare perché è stata fortemente disponibile in questo momento di estrema complessità di accelerare perché ovviamente il disagio che tutti abbiamo vissuto deve essere compensato ovviamente adesso da un lavoro che come sono certo che sarà ci consentirà di restituire la piazza il prima possibile.